Molti bambini non crescono con le loro famiglie biologiche, ma possono contare sull'affetto e la disponibilità delle coppie che decidono di adottare. La maggior parte delle adozioni va a buon fine, ma ci sono anche delle occasioni in cui il rapporto tra genitori e figli si incrina a causa di alcuni segreti mai confessati. Steve Prima di passare alla storia di Jordan, vogliamo raccontarvi di Steve, un ragazzo che ha vissuto per 18 anni con un segreto che gli pendeva sulla testa. Steve è cresciuto in una famiglia di otto fratelli a cui era molto affezionato, sebbene avesse una grande differenza di età con i figli più grandi dei suoi genitori, in particolare sua sorella Johnny. Non aveva mai dubitato dell'affetto della sua famiglia, ma sentiva che nella sua vita mancava qualcosa. I suoi genitori non gli avevano fatto mancare niente e Steve si sentiva irriconoscente nei loro confronti, ma non riusciva a scacciare quella strana sensazione. Crescendo, la situazione è peggiorata. Nel corso degli anni, Steve ha imparato a riconoscere le occhiate impietose degli amici di famiglia e ha cominciato a notare i sussurri che lo seguivano ogni volta che usciva di casa. Tutte le persone che aveva intorno conoscevano la risposta che cercava disperatamente, ma non avevano il coraggio di dirgli la verità. La scoperta lo ha trovato quando aveva 18 anni. Poco prima di diplomarsi, Steve ha trascorso qualche giorno di vacanza con due cari amici, Ellen e Vance. Si sarebbe arruolato presto in marina e si sarebbe allontanato dalla sua città natale. Quindi i due ragazzi hanno pensato che quella fosse l'occasione perfetta per svelargli il grande segreto di cui tutti erano a conoscenza, compresa la sua fidanzata. I suoi amici sapevano che i genitori di Steve non avevano intenzione di dirgli la verità. E speravano che quell'informazione avesse un effetto positivo su di lui e sul malessere indefinito. Steve aveva il diritto di conoscere un dettaglio così importante riguardo la sua vita, e i suoi amici non si sarebbero fermati finché non gliel'avessero svelato. Quando ha visto gli sguardi seri di Ellen e Vance, Steve ha cominciato a tremare. Che cosa stavano per dirgli? I ragazzi hanno preso coraggio e gli hanno rivelato un segreto che ha cambiato per sempre tutta la sua vita e la percezione che aveva della sua intera famiglia. La sua infanzia era stata una menzogna inventata dai suoi presunti genitori per non macchiare l'onore della loro famiglia. Sua sorella maggiore, Johnny, era in realtà sua madre biologica. Rimasta incinta in giovane età e considerata incapace di prendersi cura di lui dai suoi genitori. In realtà, i nonni di Steve, che avevano assunto il ruolo di tutori legali. Il ragazzo era devastato, si sentiva tradito e umiliato. Tutta la città conosceva la verità, eppure la sua famiglia aveva scelto di tenerlo all'oscuro di tutto, esponendolo alle chiacchiere del paese. Inoltre, se Johnny era la sua vera madre, chi era suo padre? Steve aveva tantissime domande. Per fortuna i suoi amici conoscevano altri dettagli e gli hanno spiegato che suo padre biologico era scappato appena aveva scoperto della gravidanza di Johnny. Nonostante il dolore, Steve è riuscito a mantenere il segreto per altre sei settimane. Il giorno della cerimonia per il diploma, però, ha affrontato quelli che per 18 anni aveva creduto i suoi genitori e ha rinfacciato loro la verità, spiegando che le loro buone intenzioni lo avevano ferito terribilmente e messo in ridicolo di fronte all'intera città. Dopo la discussione, Steve ha preso la macchina e si è rifugiato in un paesino vicino, insieme ad alcuni amici, che lo hanno aiutato a elaborare la situazione. Infine, pochi giorni dopo, qualcuno ha bussato la porta della sua stanza. Era Johnny, la donna che aveva imparato a conoscere come una sorella maggiore, ma che in realtà era sua madre. Johnny gli ha confermato la verità e si è scusata con lui per tutti i segreti, pregandolo di ascoltarla mentre gli raccontava la sua storia. Quando era rimasta incinta e il suo fidanzato era fuggito, Johnny aveva dovuto subire le occhiate sdegnate dei cittadini del loro paesino tradizionalista e bigotto. Per salvaguardare l'onore della famiglia, i suoi genitori avevano deciso di crescere il suo bambino come un figlio e i vicini avevano scelto di chiudere un occhio sulla situazione per non creare scompiglio. Nonostante quella grande rivelazione, Steve doveva andare avanti con la sua vita e non si è lasciato fermare dalla scoperta. Si è arruolato in marina e si è sposato qualche anno più tardi, ma quando ha lasciato l'esercito per diventare giornalista, il suo matrimonio ha cominciato a vacillare. 15 anni più tardi, grazie alla sua posizione ormai affermata nel mondo dei media, Steve ha realizzato un documentario segreto sulla sua infanzia, chiedendo alla madre Johnny, ai nonni e ai suoi zii, un tempo fratelli, di rilasciare delle interviste che raccontassero la sua storia. Jordan Adesso vi raccontiamo la storia incredibile di Jordan, il ragazzo che ha mantenuto un tenero segreto nei confronti della sua mamma adottiva in un momento di grande tensione. Subito dopo la sua nascita, Jordan è stato abbandonato in un orfanotrofio perché sua madre biologica non era in grado di prendersi cura di lui. Per fortuna, Ingeborg McIntosh si è fatto avanti per prenderlo in affidamento, e lo ha accolto in casa sua. Ingeborg era stata per anni una madre affidataria nei confronti di molti altri bambini orfani, e nel corso del tempo aveva ospitato ben 125 ragazzi bisognosi di affetto. Uno di quelli era proprio Jordan. La maggior parte dei bambini rimaneva a casa sua solo per poche settimane, fino all'adozione definitiva, ma alcuni restavano con lei per mesi o addirittura anni. La famiglia McIntosh non aveva mai adottato nessuno dei bambini che prendeva in affidamento, ma Jordan ha cambiato le carte in tavola. Non appena Ingeborg ha posato gli occhi su di lui, infatti, ha capito che non lo avrebbe mai lasciato andare. Purtroppo la madre biologica del bambino non collaborava. La donna pretendeva che Jordan venisse adottato da una famiglia di colore, e Ingeborg era bianca come il latte. Lei, però, non si è lasciata fermare e ha continuato a pressare gli assistenti sociali con le richieste di adozione. Nell'arco di quattro anni, Jordan non ha ricevuto richieste da nessuna famiglia di colore, quindi gli assistenti sociali hanno testimoniato a favore di Ingeborg e la mamma del bimbo si è dovuta arrendere. Finalmente, la famiglia McIntosh ha adottato il ragazzino che nessuno desiderava. Jordan ha gestito la situazione con grande facilità, dal momento che aveva già vissuto con Ingeborg per tutta la sua vita e aveva stretto un forte legame con il resto della sua famiglia. Era un bambino allegro e vivace, e i McIntosh erano tutti innamorati delle sue risate gioiose. Erano felici di poterlo aiutare, ma non sapevano che un giorno sarebbe stato lui a salvare loro nel momento del bisogno. L'infanzia e l'adolescenza di Jordan sono andate a gonfie vele. Al momento di partire per il college, Ingeborg era triste, proprio come tutte le mamme che devono allontanarsi dai propri figli. Ma non desiderava altro che vedere Jordan felice. Il ragazzo era sempre stato grato alla sua famiglia adottiva, e amava i suoi genitori più di ogni altra cosa al mondo. Se fosse stato adottato da un'altra coppia, probabilmente la sua vita sarebbe stata molto diversa, ma per fortuna Ingeborg si era fatta avanti per lui. Si era sempre sentito a casa, accanto a lei, e aveva ricevuto l'affetto, il supporto e i beni materiali che sua madre biologica non sarebbe mai stata in grado di donargli. Per Jordan, le persone con cui era cresciuto erano la sua vera famiglia, e nessun legame di sangue avrebbe potuto scavalcare il loro rapporto. Dopo la laurea, Jordan è andato a vivere da solo in un'altra regione, ma ha mantenuto contatti regolari con la sua famiglia, e ha continuato a sentirsi parte integrante della loro vita. Diversi anni dopo, però, il destino ha colpito i McIntosh con una diagnosi brutale. Ingeborg si è ammalata gravemente, e i medici hanno scoperto che i suoi reni avevano ceduto a causa di una patologia irreversibile. La donna aveva urgente bisogno di un trapianto di rene, ma nessuno dei suoi familiari biologici era compatibile per l'intervento. Quando Jordan ha ricevuto la notizia, è rimasto senza parole. La donna, che si era presa cura di lui per tutta la vita, aveva bisogno di aiuto, e lui doveva farsi avanti per lei. Ingeborg era in fondo alla lista dei trapianti, ma non aveva molto tempo da perdere. Se un donatore privato non si fosse fatto avanti per lei, avrebbe rischiato grosso. Jordan non poteva permettersi di perdere sua madre, e ha chiesto in gran segreto ai medici di testare il suo organismo per capire se fosse compatibile per il trapianto. Lei gli aveva salvato la vita quando era solo un bambino, e adesso lui desiderava restituirle il favore. Non voleva che Ingeborg venisse a conoscenza del suo piano, perché sapeva che non sarebbe stata d'accordo. Quindi ha mantenuto il riservo fino al giorno in cui ha ricevuto l'esito delle analisi. Per fortuna, i suoi reni erano compatibili con quelli della madre, e Jordan ha cominciato subito a sottoporsi alle terapie necessarie per prepararsi all'intervento. Ormai non poteva più mantenere il segreto, quindi ha confessato alla madre le sue intenzioni, e gli ha spiegato che era irremovibile. Ingeborg ha tentato inutilmente di fargli cambiare idea, ma Jordan era determinato a salvare la vita della donna che lo aveva amato quando nessuno si era fatto avanti per lui. Il trapianto si è rivelato un successo, e ha dato a Ingeborg la possibilità di continuare a vivere ancora a lungo. La donna era commossa dal gesto del figlio adottivo, e orgogliosa di portare un pezzo di lui dentro di sé. Il suo legame affettivo ormai era più tangibile che mai, e sarebbe durato per sempre. E voi avete mai mantenuto o scoperto un segreto sconvolgente? Raccontateci le vostre esperienze nei commenti. Non dimenticatevi di mettere mi piace al video, ed iscrivervi al canale per rimanere sempre aggiornati sulle nostre prossime storie interessanti.